Quanto vale un metro cubo d'acqua? Il piave d'autunno, ma d'inverno, e dove cominciano le montagne c'è la diga, ora dalla diga partono i tubi, gli italiani erano bravi a costruire dighe, eravamo orgogliosi di saperle fare meglio degli altri, Negli anni del dopoguerra c'è un enorme bisogno di energia Le cilera, le moto guzzi, per vento alla pressione! Ma è un mondo antico, dove ci sono più bestie che abitanti Serve un geologo, Giorgio Dal Piaz Nato a Feltre, uno dei padri della geologia italiana È il canyon più profondo delle Alpi All'Enel Sade, al Genio Civile, alla Prefettura di Udine Questa amministrazione fa nuovamente presente le sue preoccupazioni e i propri dubbi sulla stabilità delle sponde del lago di Erto Ma dov'è la dosolina? Qua sono Sono, prima persona plurale A Lungarone, dove chiedere i miei figli, prima vivi E dopo sei minuti, via Dicevano che la frana poteva verificarsi, ma dopo, verso novembre Ma poi bisogna tornare a prendere l'imbottante E l'imbottante qua sono i morti C'è chi ne ha persi tre, sei, dodici Che effetto le fa lasciare il paese? Sto qua, finché noi mi porta via Tre ne ho perse Signora, che effetto le fa lasciare il paese? Ma mi lasci, per favore E non mi chieda niente Che non abbiamo bisogno di certe cose Signora, che effetto le fa lasciare il paese? A me? Che fa effetto lasciare le mie sorelle morte? Sono le 22 e 39 A questo punto non sappiamo Come finire la nostra storia Ma raccontarla oggi Deve servire Non a consolarci Ma a rivellarci 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 Grazie a tutti.